Una lettera aperta al Presidente del Consiglio Mario Draghi perché lo Stato non dimentichi le esigenze dei familiari delle vittime del terremoto di Amatrice. A scriverla Mario Sanna, non rese di origine ma da anni residente in provincia di Rieti e padre di Filippo, vittima del sisma del 24 agosto 2016. La reazione parte dalle promesse fatte dal Presidente del Consiglio in occasione del quinto anno di commemorazione della tragedia. In quell'occasione, scrive Sanna, Mario Draghi rassicurò i terremotati sul fatto che dopo cinque anni di appelli allo Stato caduti nel vuoto, il Governo disponesse dei fondi per poter portare a termine i programmi di ricostruzione. Parole prese per buone dalla delegazione e anche alla luce di un possibile percorso già esistente per l'individuazione dei fondi. Da tre anni esiste infatti una proposta di legge per l'istituzione di un fondo per i familiari delle vittime dei terremoti di Amatrice e dell'Aquila. Un'opportunità che, scrive Sanna, ad agosto la delegazione aveva chiesto a Draghi di inserire nella legge di bilancio 2021, con ampia disponibilità da parte del Premier. Ma nella legge di bilancio, approvata dal Consiglio dei Ministri, della legge sul fondo per i familiari delle vittime non c'è traccia. L'ennesima delusione per le vittime del terremoto di Amatrice, che questa volta contavano sul pragmatismo e sulle parole di comprensione del Presidente del Consiglio per scardinare l'immobilismo che da tre anni blocca la proposta di legge all'ottava commissione alla Camera. Ora che la legge andrà in Senato, potrà essere emendata. Dunque, la proposta del fondo per i familiari delle vittime potrà essere inserita. Ragion per cui Mario Sanna, a nome di tutte le vittime del terremoto di Amatrice, chiede allo Stato una volta per tutte di farsi carico della soluzione per il fondo. Diversamente, scrive Sanna al Presidente Draghi, le annuncio fin da ora che inizierò uno sciopero della fame che terminerà solo e soltanto una volta approvato alla legge. Un paese civile non può dimenticare le tante famiglie che hanno subito le perdite nel terremoto a vantaggio solo e soltanto della proprietà privata e dell'economia.